che è diverso da quello arabo, è diverso perché il cuscus a Trapanese viene fatto col pesce il piatto è anche molto semplice e molto povero perché mentre il cuscus tunisino è molto ricco di pesce o di carne, ci sono tanti tipi di verdure da noi nasce anche un pesce con un piatto povero perché avendo tanti pescatori so it's a poor person's dish here because with the fish having lots of fishermen, all the excess fish was turned into broth all the small fish that they couldn't sell, they throw in a pot and he's gonna show us the ingredients for the fish soup, which is like a bisque, kind of a stew, very flavorful and then it's served on the cuscus, which also fills you up it's very, very simple e poi, poi adesso poi lo mangiate poi questo cuscus adesso viene condito con aglio, aglio, cipolla, olio, sale, pepe, prezzetto, pannella so it gets salt, pepper, parsley, onions, olive oil, cinnamon it's dressed into the cuscus blend and then it's steamed and that's what gets you this beautiful aromatic cuscus we just put hot water on the stuff in the box and you eat it but if you add like the cinnamon stick and these other little flavors it's much more aromatic